Rispondo a 5 domande di Arustafuria La prima domanda è questa La tridimensionalità insieme alla dualità è una realtà di questa dimensione Sono possibili e o percepibili altre realtà che sono maggiore alle tre dimensioni e alla dualità Esiste una grande confusione in relazione alle dimensioni della realtà Le dimensioni, come è facile capire quando immaginiamo 10 elevato a 1 che è una dimensione lineare 10 elevato a 2 che è un quadrato, quindi una dimensione al quadrato 10 elevato a 3 che è un cubo 10 elevato a 4 che è un cubo che trasla 10 elevato a 5 che è un cubo che trasla con un fronte 10 elevato a 6 che è un complesso che trasla Un volume che simultaneamente va in avanti e va all'indietro Quindi abbiamo una espansione centrifuga E le successive, come per esempio 10 elevato a 7 La dimensione 7, che cos'è? È la dimensione 10 al cubo, quindi tutta la massa Quando agendo come prodotto per 10 elevato a 7 Completa tutta l'unità che è data sempre da 10 elevato a 10 Quando noi abbiamo il totale del ciclo Espresso sia come base sia come dimensione indice Quindi le dimensioni sono tutti i valori indici Naturalmente a queste dimensioni noi poi assegniamo dei numeri Per esempio abbiamo 3 per 10 elevato a 5 Significa che l'unità che si esprime a dimensione 5 Sempre della base 10 Ossia significa che abbiamo questo padre generale Che è il ciclo Con 10 elevato a 5 Che è presente sempre in blocchi di 5 10 per 10 per 10 per 10 per 10 E formano unità di dimensione Il numero di fianco 1, 2, 3, 4 Indica quante volte Questo insieme a livello di dimensione 5 È in atto Quindi questo è il criterio per capire le dimensioni Invece si ha oggi una idea Piuttosto confusa Delle dimensioni come se la nostra realtà Il nostro universo Avesse di fianco un altro universo Parallelo O altri ancora Tanto che mentre qui accadono alcune cose Lì ne accadono altre Più o meno collegate a queste No, non è così Noi usiamo il nostro modo di vedere Attraverso il calcolo E concepiamo il nostro mondo E lo concepiamo Sempre noi che lo concepiamo In funzione di noi stessi E siamo noi gli arbitri Di quello che ciascuno di noi vede Il mondo Ti segue in modo Servile Perché se sei in India Vedi l'India Se appartieni come osservatore A un certo momento Della storia Dell'universo La storia dell'universo Si fa vedere In quel preciso momento Chi comanda In tutto ciò E' sempre l'osservatore E comanda Con i suoi criteri mentali Poi chiede La realtà Della nostra dimensione E' sufficiente A comprendere l'assoluto O ci sono altri livelli Per comprenderlo In assoluto Quando entriamo Nel contesto Della comprensione Bisogna Cercare Di Capire Ovviamente Quali sono Le parti in causa La prima cosa Da capire E che cosa sia L'assoluto L'assoluto E' il dominatore Che esiste E non ha mai Smesso di esistere Perché E' ciò che domina Tutto il nostro Relativo E' un assoluto Che esiste In modo Dissociato In tutte Le possibili Contrapposizioni Comanda Imponendo La visione Uguale Contraria Ha una dinamica Che è quella Che risulta Basilare Componendo I due valori Uguali e contrari Essendo valori Uguali e contrari Si compongono Sempre Nel verso Negativo Che è quello Disfattivo Di conseguenza Noi possiamo Assistere Al nostro Fare Sulla premessa Di un'operazione Che è in atto Uguale e contrario Esattamente Rispetto a quel fare E' una sorta Di prestito Grazie al quale Noi poi Possiamo Agire Considera una ruota La quale ruota Ha una Semicirconferenza Sopra E un'altra Sotto Quella che Si appoggia Per terra È La Semicirconferenza Sotto Noi Grazie Al Movimento Che è Negativo Rispetto Alla Semicirconferenza Sotto Possiamo Avere Lo Spostamento In avanti Della Semicirconferenza Sopra Sono Abbinati insieme Le due Semicirconferenze Fanno parte Della stessa ruota Sono Solidali Tra di loro Ebbene Appoggiandoci Sulla parte Che noi Non vediamo Perché noi Vediamo sempre E solo La parte Che sta Sopra La parte Che sta Sotto E ci Supporta Sta Alla base E noi Non La Possiamo Osservare Se non Attraverso La Dinamica Della Parte Sotto Ora Se Immagini Una Ruota Che Nel Diametro Che è orizzontale E parallelo Al suolo C'ha Un punto A E un punto B Opposti In quel diametro E A E quello a sinistra E B E quello a destra E noi ci spostiamo Da A Verso B Con questa ruota Lo possiamo fare Soltanto Se B Sta Retrocedendo Verso A Se B Retrocede Verso A Noi abbiamo Che A A Avanza Verso B E con questo Avanzamento Che Noi vediamo In positivo Noi Abbiamo l'idea Che È vera Che Tutto il complesso Della ruota Va in un verso solo Ma solo perché Ora È la parte Di sopra Che Si supporta Su quella di sotto La quale Sta retrocedendo Verso il punto A A partire dal punto B Ed è grazie Proprio a questa Componente Che l'altra Può traslare Da A A B Appena il punto B Tocca Il suolo Si invertono Le parti Che stavano Prima Sopra E ora Quella di sopra Finisce sotto Ebbene Ora È la sua Componente Che non è vista Se non attraverso Quella uguale Contraria E grazie a ciò La ruota Nel suo insieme Fatto Dalle due Reciproche Movimentazioni Una avanzante E l'altra Retrocedente Tutta insieme Nel suo complesso Trarla Quindi Cosa è L'assoluto L'assoluto È ciò che Tiene insieme Il sistema Lo ordina Con Un comando Che non può Assolutamente Essere disatteso E Che ci consente Nel relativo Grazie sempre A una parte Che noi vediamo Esistere Dinamicamente Nel tempo Di vedere L'avanzamento Dinamico Nel tempo Dell'altra parte In natura Poi queste due Parti Si saranno Formate Nel loro Modo Di essere Assumendo Per esempio La valenza Di Magnetismo E Elettricità Grazie Al movimento Magnetico Che noi Non vediamo Possiamo Scorgere Quello Elettrico E vediamo L'avanzamento Elettrico Della luce Nell'universo Mentre Invece Vediamo Esistere In atto Ma non lo vediamo Se non attraverso I movimenti Della materia Il magnetismo Il magnetismo È la forza Che lega insieme La gravitazione Universale Ebbene Proprio Grazie a questa forza Che porta Tutto Verso il centro Noi stiamo Vedendo In modo Esattamente Uguale Contrario Non ciò Che si Presenta Nella forma Del magnetismo Ma ciò Che si Presenta Nella forma Della luce Ossia Dell'aspetto Elettrico E Esso Sembra Espandersi Anziché L'altro Che era Andare Verso il centro Ecco È Grazie Al magnetismo Che entra In una lampadina Che noi Vediamo Uscire La luce Dalla lampadina Non è possibile Immaginare Un movimento Senza L'altro Perché Chi comanda È sempre L'assoluto E di conseguenza Quando noi abbiamo Capito Che in questo Assoluto Noi abbiamo Il dominatore Arriviamo anche A capire Il perché Della dinamica Dell'universo E perché Parte sempre Una premessa Negativa Alla base Di quella Che poi Vediamo In positivo Perché Comporre Più 1 Per Meno 1 Determina Sempre Il risultato Di un Meno 1 Ossia Di una Premessa Assoluta In un movimento Negativo Grazie al quale Solo grazie al quale Noi vediamo Il positivo Perché I due Movimenti In sostanza Sono Tra di loro Coesistenti Ma Uno dei due Quello Che È Di un verso Particolare Dei due Si mette sotto L'altro E Fa avanzare Solo l'altro In apparenza E abbiamo Come se fossero Questi due vettori Che spingono Uno di qua Uno di là Che fin quando Sono in linea Si Si annullano Tutti e due No Immagini Quando li mettiamo così Quando li mettiamo così Determinano Immediatamente Una ruota Che gira Uno spinge Sotto L'altro Spinge Sopra E abbiamo L'inizio Di una coppia Con un momento Di rotazione Quell'assoluto Da cui Noi tutti Proveniamo A sua volta Cerca Di comprendere Il suo assoluto Attraverso I vari livelli Di frammentazione La domanda È un po' Bizzarra L'assoluto È Una entità Talmente Generale Che sta A monte Di tutto Il nostro Esistere Che lo possiamo Immaginare Questo ente Assoluto Come una Grande pace E di conseguenza Sarebbe Un assoluto Immobilismo Nei confronti Di un Mondo Estraneo Che non esiste E diventa Mobile Attivo Relativo Soltanto Quando Nel suo Intimo Si creano Dissociazioni E alcune Di queste Dissociazioni Per Come sono Intimamente Configurate Diventano Cicli Operativi Simili Ad esempio A un Virus Che sia All'interno Di un Insieme Di dati Il quale Abbia Una Logica Apparentemente Interna E Una Conformazione Simile A quella Generalità Dell'assoluto Solo Che Anziché Essere Una Sorta Di Io Che In assoluto È In totale Equilibrio Come Una Grande Pace È Nel Relativo Condizionato A Una Frammentazione Dell'essere Tanto Che Abbia Perso All'interno Del suo Modo Di Essere Una Grande Quantità Di Quell'essere Che Lo Bloccava E Lo Teneva Fermo Di Consequenza La Relazione Che Diventa Assolutamente Intima Accade Tra La Condizione Assoluta E Un Soggetto Osservatore È L'anima Dell'osservatore Con Il Suo Io Che Ripeto Un Insieme Operativo Di Attraverso I Vari Cicli Possa Determinare Una Sorta Di Cartone Animato Quando Ad un Ciclo Se Ne Pone Un Altro Immediatamente In Sequenza Perché Abbiamo Un N Diviso N Come Cento Mele Che Devono Essere Divise Tra Cento Bambini E La Divisione Comincia Proprio Nell'atto Pratico Di Dare Una Mela A Ogni Bambino 1 2 3 4 5 Implica Cento Tempi Centesimi Per Dare Il Risultato A Questa Entità Unitaria Che Abbiamo Immaginato Presente Come Cento Su Cento Ecco A Questo Punto Quando Si Realizza Questa Necessità Di Ripartire Qualcosa In Un Io Che Una Unità Indipendente Che Ha La Necessità Di Questa Ripartizione Che Entra in Atto Il Tempo Di Questa Ripartizione E A Questo Punto Abbiamo Un Collegamento Tra Questo Io Quando Questo Io Diventa Un Io Pensante Un Io Raziocinante Come È Quello Dello Spirito Umano L'assoluto Usa I Concetti Usa I Talenti Del Relativo Per Riequilibrarlo E A Un Io Spirituale Questo Insieme Risponde Risponde A tono Perché Gli Da Sempre Tutto Quello Che È Necessario Per Essere In Equilibrio Si Presenta Nei Confronti Di Un Io Singolo Come Quella Risposta Totale Assoluta Di Un Dio Che Nell'atto Pratico Se Noi Esistiamo Come Una Forza Da Esattamente Tutto Quello Che Nel Tempo Serve Per Equilibrare Quella Forza E Noi Vedremo Questo Equilibrio Attraverso La Ricerca Perenne Dell'Equilibrio Perché Lo Vedremo Nel Tempo Di Una Ripartizione Proprio Grazie All'Unità Che È La Nostra Presenza Unitaria Essa Ci Obbliga A Restituire Nel Tempo Ogni Cosa E Nello Stesso Tempo Abbiamo L'Equilibrio Perché Il Nostro Io È Parte Di Questo Insieme E Noi Possiamo Vederlo Separato Soltanto Perché Tutto Quello Che È Complementare Alla Singola Parte Si Mette In Sottordine E Consente La Operatività Apparente Di Questa Parte Ma Tutto Questo Accade In Un Modo Sicuro Certo Con Quella Forma Della Fedeltà Con La Quale La Religione Ti Descrive Dio Di Un Dio Fedele Perché Realmente Noi Non Siamo Avulsi Dall'assoluto L'assoluto Che ci Contiene E ci Comprende Ci Comprende Proprio In relazione Al nostro Limite Che Non Ha Senso Nell'assoluto Perché Chi Domina È L'assoluto Quindi Noi Dobbiamo Sempre Sapere Che Di Fianco A Qualunque Cosa Che Sia In Essere Suo E Particolare Esiste Sempre Tutto Quello Che Lo Controbilancia Ma Noi Non Lo Vedremo Allineato In Questo Modo Ma Posposto In Quest'altro E Tutto Apparirà Come Una Ruota Quella Del Divenire E Quell'assoluto Potrebbe Paragonarsi All'atomo Di Infinitamente Piccolo E Grande E Vado Avanti E Quell'infinitamente Piccolo E Grande Potrebbe Paragonarsi A Una Infinita Spirale Dove L'assoluto È Tutto E Niente L'assoluto In Realtà È Tutto E Niente Proprio Perché È Assoluto Se Fosse Tutto Sarebbe Condizionato Da Questa Totalità Che Dovrebbe Essere Presente E Quindi Avremmo Un Valore Obbligato Alla Presenza E Avremmo Che Il Tempo È Alla Base Di Dio Se Lo Chiamiamo Dio L'assoluto L'assoluto È Proprio Una Pura E Totale Libertà Di Esistere O Non Esistere È Veramente Un Onnipotente Valore Che È Quello Che È In Atto Anche Ora Non Possiamo Avere Due Tre Quattro Assoluti L'assoluto È Proprio Solo Quella Forma Che È Talmente Libera Che È Prima Di Ogni Forma E Nella Quale Esiste Ogni Possibile Forma Tutte Quante Relative A Questa Presenza In cui Esistono Tutte Come Pure Dissociazioni O Come Pur Limiti Di Tipo Determinato Ciò Che È Determinato È L'anti Assoluto Perché L'assoluto Si presenta Proprio Nella Forma Indeterminata Totalmente Indeterminata Simile A Uno Zero Di Presenza Che Però Non È Uno Zero Di Presenza È Una Infinita Possibilità Di Presenza Ma Tutta Apparentemente Immobile Perché In una Grande Pace In un Grande Equilibrio È Quando Le due Parti Insieme Sotto Qualsiasi Tipo Determinano Tra di Loro Non L'allineamento Ma Una Relazione Antitetica Per cui Si mettono In antitesi Una Sull'altra Che Proprio Come Accade Quando Si mettono Due Razzi Così Si Crea Una Girandola E Appare Il Relativo Che È Proprio Relativo Sembra Che Sia Un Movimento Orario Se Abbiamo Questo Modo Di Esistere Qui Ma Rispetto A chi È Orario Rispetto A noi Che Lo Stiamo Vedendo Dal Davanti Ma Non Possiamo Immaginare Che Esistiamo Solo Noi Che Guardiamo In Avanti Realmente Possiamo Metterci Sempre Un Altro Come Noi Davanti A Noi Che Guarda Verso Di Noi E Che Guarda Nel Verso Opposto Al Nostro Allora Quella Girandola Che È Collocata Tra Di Noi E Che Io Vedo Girare In Senso Orario L'altro La Vede Girare In Senso Anti Orario E Allora Esiste O Non Esiste Un Moto In Se Stesso Che Sia Orario O Anti Orario No Quando Si Creano Due Possibilità Di Osservare In Versi Uguali E Contrari Si Genera Proprio Una Differenziazione Totale Di Due Mondi Esattamente Uguali E Contrari Che Però Saranno Collegati Sotto Il Profilo Dell' Ammassamento In Una Cosa Sola Perché Quando Due Entità Opposte Tra Di Loro Si Accorpano E Creano Un Corpo Solo Abbiamo Che Ciò Che Ci Risulta Materiale Da Un Lato E Controbilanciato Da Ciò Che È Antimateriale E Collegato Al Nostro Da Una Antitesi Simile A Quella Che Esiste In Una Clessidra In Cui Noi Immaginiamo Di Essere Presenti Nel Cono Superiore E Vediamo Tutto E Solo Quello Che Esiste In Quel Cono Perché L'unico Punto Di Passaggio Tra I Due Coni È Quel Punto Centrale Attraverso Cui Passa La Sabbia E Noi Per Quel Punto E Allora Si Capisce Benissimo Che Vedremmo Che Tutta L'espansione Che Esiste Nell'altro Cono Rovesciato Che Sta Dall'altra Parte Noi Lo Vedremmo Non Espanso Ma Tutto Lì Dentro Quel Foro Che È Il Passaggio Tra Un Universo In Positivo E L'altro In Negativo E Vedremmo Contenuto Dentro Gli Atomi Dentro Il Nucleo Degli Atomi Un Intero Universo Tutto Costruito Nel Piccolo Ma Questo Universo Che Noi Vedremmo Dentro Attraverso Questi Buchi Che Possiamo Immaginare Essere I Nuclei Non È Intanto Un Nucleo È L'ammassamento In Quella Condizione Lì Di Un Mondo Di Un Anti Universo Nei Confronti Dell'Universo Che Sta Da Questo Lato E Visto Che Ci Sono Entrambi E Che Noi Siamo Comandati Dalla Legge Dell'alternanza Continueranno A Ruotare Uno Attorno All'altro E Ve lo Immaginate Un Una Clessidra Che Si Metta A Ruotare Attorno Al Punto Centrale Noi Assumeremmo Posizioni Antitetiche Sempre Solo Con 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 Nostro Cono E Ruotando In Tutte Le Posizioni Staremmo Una Volta Davanti Poi Staremmo Di Dietro E Diremmo Ma Dove È L'Universo Negativo Dov'è Che Abbiamo Visto Davanti Abbiamo Visto Di Dietro E Non Riusciamo Mai A Capire Dove È Quello Spazio In Cui Possa Esistere La Materia Rovesciata Nell'antimateria Dove È Nel Centro Dei Nucle Di Ogni Atomo Che Esista Sulla Faccia Della Terra E Nell'Universo Noi Abbiamo Proprio Una Possibilità Duplice Di Osservare L'Universo Sia Osservandolo Nella Linea Del Grande E A questo Punto Abbiamo Proprio Davanti Una Volta Stellata Con Tutte Le Proprio Attraverso La Piccolezza E Allora Tutta Questa Grande Espansione In Tutti I Punti Che Sembrano Espansi Ha Contenuto Al Centro Di Ciascuno Di Questi Punti Come Un Punto Di Passaggio E Di Osservazione Di Tutto Quello Che È Antitetico E Che Adesso Non Possiamo Vedere Voi Dovete Arrivare A Capire Che In Questo Preciso Momento In Cui Noi Stiamo Osservando La Vita Da Questo Lato Del Cono Esiste Nell'altro Lato Del Cono Una Vita Che Riguarda Ancora Noi E Che Vedremo Nell'altro Cono Solo Quando Avremo Fatto Tutto Il Percorso Di Una Vita Intera E Arrivato A Quel Punto Limite In Cui Vedevamo Di Un Cono Sempre Uno Passiamo All'osservazione Dei Coni Di Dietro E Ritorneremo Momento Per Momento Nei Vari Momenti Che Ci Riguardano In Questo Attimo In Cui Esiste L'anti Universo Ripeto Il Punto Di Passaggio E Attraverso Il Nucleo Di Ognuno Degli Atomi Che Esistono Tutto Quello Che È Antitetico Si È Messo Insieme In Forma Unitaria E Si È Ammassato Realmente In Forma Di Nucleo E Noi Ci Giriamo In Giro E Ci Sembrerà Quel Centro Attraverso Cui Tutto Gira Ma Questo Centro È Proprio Simile A Tutto Il Campo Negativo Il Campo Negativo In Che Modo Si Presenta Come Decimale Nei Confronti Dell'Unità Ciò Che È Uno Quando Andiamo Immaginare Una Grande Quantità N Più Grande È La Quantità N Più Piccolo Si Presenta Di Conseguenza Quando Abbiamo Un Un Universo N Che È Un Miliardo Tanto Per Dare Un Numero Così Quello Che Si Determina Come Tempo Di Presenza Si È Ridotto A Miliardesimo Più Cresciamo Nel Grande Più Cresciamo Anche Nel Piccolo Però Lì In questo Piccolo Che Attualmente Ci Sembra Piccolo Non C'è Assolutamente Niente Di Piccolo C'è Proprio Una Sfera Di Osservazione Che È Proprio Nella Concezione Di Questa Clessidra In Cui Il Tempo Passa Da Una Parte All' Altra Noi Per Poter Vedere Però Questo Passaggio Dovremmo Avere Il Momento In Cui Tutta La Sabbia Contenuta Nel Nostro Mondo Reale Ed È Una Questione Soggettiva Che Riguarda Ciascuno Di Noi Sia Passata Dall' Altra Parte Quando L'ultimo Granellino Di Vita Che Che ci riguarda In Questo Mondo Reale È Passato Dall'altra Parte Assieme Ad Esso E Alla Sua Unità Passeremo Nella Unità Dell'altro Mondo E Cominceremo A Osservare La Dinamica Che Esiste Di Là E Che È Uguale Contraria A Questa Di Qua E Che Ci Riporta A Quella Condizione Di Passato Da Cui Sembra Che Proveniamo E Sarà Quel Futuro Che Avremo Ritornando Alle Condizioni Del Passato Perché Vedete Se La Realtà Che C'è In Un Cono È Simmetrica A Quella Che C'è Nell' L'altro Cono Non È Che Le Condizioni Siano Uguali Sono Uguali Ma Condizionate Da Un Profondo Equilibrio Che Esiste Tra I Due Elementi Del Cono Di Conseguenza Anche Se La Vita Che Vivremo Non Sarà Esattamente Come Questa Perché Ne Staremo Percependo L' Altro Lato È Collegata Con Le Stesse Modalità Che Esistono Nel Campo Della Antimateria Chiamiamola Così Questa Parte Che stiamo Vedendo Ora Mentre L'antimateria Cioè Quella Realtà Che è Nell'altro Cono Adesso Non La Vediamo Quando Saremo Lì Saremo In Una Condizione Che È Dominata Dalle Stesse Condizioni Reali Che Abbiamo Ora La Forma Sarà Diversa Avremo Modalità Diverse Di Esistere Però Insieme In ogni Attimo Tra Una Parte E L'altra Parte C'è Una Perfetta Complementarità Perché Siamo Sempre E Solo Una Unica Cressidra E io Ho risposto In questa maniera Per far capire A chi mi ha fatto La domanda Che non abbiamo Tanti Universi Abbiamo Proprio Questo Fondamento Di Una Realtà Che Può Essere Tutto E Può Essere Niente Ed è Tutto E Niente Ma Entro Di Essa Noi Come Soggetti Spirituali E che Quindi Esistiamo In questo Aspetto Quando Esistiamo In questo Aspetto Nell'aspetto Dello Spirito Siamo Una Parte Che Si Connota Con Questa Forma Di Attività Attività Spirituale Ecco Allora Abbiamo Che L'equilibrio Totale Assume In Relazione Al nostro Essere Spirito Quella Specie Di Dialogo Che Usa La Forma Dello Spirito E Quindi Quando Un soggetto Si rivolge All'assoluto In Forma Spirituale Sente La Sua Risposta A livello Di Un Dio Fedele Che Gli Da Tutto Quello Che Gli Manca Per Trovare Quella Definitiva Pace Che Esiste Ma Non In Un Azzeramento Proprio In Quel Movimento Totale E Universale Che Compensa Tutto Quello Che Oggi Manca Ad Ogni Fase Momentanea Cui Appartenga Il Nostro Spirito